a tutti noi capita di raccontare i film che abbiamo visto ma cosa vuol dire narrare un'opera cinematografica ha senso fare un laboratorio sul raccontare i film vediamo cosa ne pensa chi di cinema se ne intende signor chiarostani le capita spesso di raccontare i film dei suoi colleghi film che le sono piaciuti signor kurosawa che senso ha per lei raccontare l'opera cinematografica di un altro regista con lei andando il ronano nevo cascina koto panace tetra ma tommy tara oma di me da credo cascina koto steremo un po' di gioia in un gruppo del batto metterà un tono cascio signor kitano nella sua carriera è cambiato il modo di vedere e anche di raccontare il cinema mister ford le sembra una buona idea quella di fare un workshop sulla narrazione dei film lei lo seguirebbe il laboratorio promosso dal sicilia qui il film fest mia no 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 Grazie a tutti.